Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Simone e siamo qui in questo nuovo video. Oggi siamo qua con il personaggio Sky, siamo qua ragazzi su Paladins, versione PlayStation 4, ragazzi. È un gioco ormai conosciuto, non da moltissimi, però comunque ormai si è fatto avanti come nome. Paladins, come avete visto anche nei video precedenti sul mio canale che trovate sotto in descrizione, è stato creato prima su PC, poi dopo cresciuto, è stato asportato su PlayStation 4. È un gioco veramente bellissimo ragazzi, molto divertente, free to play, dunque se volete giocare ragazzi insieme a me inviatemi la richiesta a SimoGamer96, mi stavano sbagliando anche i nomi ragazzi. E mi piace davvero tantissimo ragazzi, vai, grandissima, bella kill, bella kill ragazzi. Noi dobbiamo conquistare, ok, no, 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 cavolo, vai, 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 no, non ci siamo. Ok, vai, grande, bella kill, bella kill, bella kill ragazzi. Scrivetevi sotto nei commenti se volete altri video di Paladins ragazzi perché mi sta veramente piacendo moltissimo. E scrivetevi sotto nei commenti anche se voi giocate a Paladins e cosa ne pensate di questo gioco e se hanno fatto bene a portarlo su PlayStation 4. E ragazzi sotto in descrizione lascerò anche il link della mia pagina Facebook e di Twitter, decidete voi dove seguirmi, siete liberi di fare quello che volete ragazzi. E naturalmente vi ricordo sempre di lasciare un like e un commentino qua sotto. Ah, R2, questa qua. No, vabbè, scialla. Ok, abbiamo cambiato postazione ragazzi, abbiamo cambiato postazione, qua c'è la freccia, ok. Vai, vai, ruba la kill, ruba la kill. No, niente ruba kill. Ok, ce n'è uno lì, ce n'è uno lì. Vai, ruba la kill, ruba la kill. Vai, 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 vai. Come si fa a vedere le kill dopo, dopo? Vai, 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 vai. No. Ok, no, no, maledizione a te, coniglio schifoso. Guardiamo quanto sto facendo ragazzi, 12 e 4. Eh, niente male, pensavo ancora di più io. Ma va bene ragazzi, va benissimo. È un gioco veramente bellissimo. Non è competitivo come Rainbow Six Siege, Battlefield o l'altri, ragazzi, ma è un gioco molto, diciamo, arcade, molto shallow, devo dire, perché comunque non è classificata. C'è una modalità classificata, ma, siccome ragazzi, non può competere con Rainbow Six Siege o FIFA o tutti gli altri. Vai, è morta, morta, morta. Morta, 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 morta. Perché non c'è nessuno. Carica. È un gioco veramente, veramente molto veloce. Siccome è anche molto di più su PC, devo dire. Lo trovo molto veloce. Forse con vari aggiornamenti l'hanno reso ancora più veloce, ragazzi, di quello che è. Vai, vai. Questa qua faccio a quadrupla, quadrupla. Ah, solo una, solo una. Me lo credo. Ero 12. 17, ragazzi. 17 kill. 17 kill. Oddio, chi sta parlando anche adesso. Stiamo facendo 17 e 5, ragazzi. Veramente un bel risultato. È la prima volta, ragazzi, in assoluto, che gioco a Paladin su PlayStation 4. Non ci ho mai giocato su PlayStation 4. Eh, sono morto, sono morto. Vai. Colpa a testa, colpa a testa, vai. Headshot. Eeeh, ciaoone, ciaoone. Vai, vai, è già morta, è già morta, è già morta, è già morta, è già morta. Vai, è già morta. No, maledizione. No. Ma, oddio, che culo. Che culo, raga, che culo. Rubiamo la kill, rubiamo la kill. Grande, abbiamo rubato la kill. 26, raga, 26. E' veramente un gran bel gioco. Non solo perché sto facendo una bella kill. Un bel punteggio. Mi sto divertendo tantissimo, ragazzi. No, maledetto. E sto giocando da solo. Dunque, questo è già... Per sé è un lato positivo divertirsi da solo, senza compagnia, senza un gruppo di amici con cui giocare a Paladins. Perché nessuno ce l'ha. Va bene. E' già un lato positivo divertirsi da solo, su un gioco. Dunque, questo merita tantissimo, ragazzi. Ve lo consiglio, veramente, tanto. Vai, vai, esplodi. Dai, non c'è nessuno. No, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato. Ricarica. No, 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 no. No, dai, no. No, no. Ne ho ucciso questa qua, madonna mia. Madonna. Poi, come vedete, ragazzi, qui in basso, davanti alla mia faccia, ho comprato il nuovo microfono. Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Ho comprato il nuovo microfono per migliorare ancora di più la qualità dell'audio, del mio canale, dei miei video. Ragazzi, questo video è finito. È venuto veramente una bella partita, 23 kill e 8 morti. E niente, ragazzi, lasciatemi un like e un commento e iscrivetevi al canale. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!